Ciao, vi faccio vedere le altre consigli di internet. C'è una piccola cartelletta che ho fatto io con il mio diario. Qua è una creazione di proprietà. Vedete, non è diretta. C'è stato dei tatuaggi, ci sono anche le occhie. Qua la città, c'è stato lavorato con la cartelletta. E poi la città, c'è stato lavorato con la cartelletta. Poi, ecco. La svoluzione è molto bella. Io vi ho fatto vedere il... Allora, questo è quel coso che ho fatto io e ieri. Ho messo anche un po' di coso. Però non ho messo tutto perché mi scoccia di diventare caccalla, 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 caccalla. Quindi, un po' di caccia in stafoglio. Questo è la rivista. Allora, la rivista Gionista. Vedete? Questa cosa è una cosa... Non si fa tante, non si fa tante... Non si fa tante. No, in questi modi qua. Non si fa tante, due, non si fa tante. Un po' di caccia. Un po' di caccia. Un po' di caccia. Un po' di caccia. che conosco molto bene, che dai da sempre, perché mi piace, guarda, a casa di tutti i giornali, ecco come si tratta, all'unio mille, la gesta, eh, la gesta, 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 la gesta Poi, ho questo qua che ho fatto con le mie mani, con le mie mani queste qua, vedete? Guardate com'è bello, ve l'ho fatta qua adesso, mi dispiace, però se mettiamo un altro qua Adesso si fa ancora più dubbio, ho detto mamma, questo qua, è sempre l'originale, vi ho detto proprio questo, mi sono tutte le cose di Halloween, si sta con una pagina, ma questo da regalo, questo Mamma, guardate questi altri, che non so, non è stato un, anche questo, poi vabbè, ho questa, scusate, ho detto il cipo, però non è stato un libro di, non so, poi questo Com'è trovo Va bene, questa, questo qua, il quattro, che da un posto, che non me la tocco a me, e capita che c'è il posto, che lo dà Questo qua, questo qua, è sempre uguale, vedete? A questo qua, tre Questo qua, questo qua, questo qua, poi ho proprio questo qua, colino, sempre diretta Ok Ok, adesso vedete, ah, sì, può aprire una pagina prima Poi, 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 poi Vabbè, anche facciamo Ah, questi qua, questi qua, questi qua, non li sticcio, non li confediscono Come, poi, 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 io disno Uh, questo qua, io disno Eh, questo qua, non li fanno Ah, allora questo qua poi questo è qua, e qua dietro l'ho tagliato e di violetta è sempre lì da quattro storie alla manetta però l'ho fatto di stare a bocchie a scrivere ma l'ho fatto a scriverlo usavo a scriverlo vedete e poi lì c'è il lato di violetta con violetta natura e qua sta violetta, romanz, leon camilla, violetta francesca lutemilla, violetta camilla francesca tommas, violetta e leon sempre con il logo di violetta questo l'ho pagato un euro e novanta un euro e novanta poi la rivista di violetta sempre la rivista è la blu che sta un qua vedete poi vedete c'è violetta così da sola loro stanno facendo il ballo questo qua lugero qua poi ho Zid con Enix che è una cosa che fa vedere quattro gioco sono le pagine di luzzero queste cominciano con le pagine di luzzero vero e vabbè qua poi è di storia di incertezza conoscerò non 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 l'accoglitore di violetta non 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 no allora poi ho questo qua devo fare spesso che fa la scadenza del tempo questo qua con Tommaso questo qua con me è molto carino me l'apro eh io ve la faccio vedere che è con me grazie